Volontariato e cultura è questo il titolo di questo importante progetto in vista anche di Pesaro Capitale della Cultura 2024, un programma però veramente ricco il 20 di maggio. Sì, sarà un appuntamento molto importante per tutte le realtà di volontariato della nostra provincia perché il cantiere Rossini diventerà un vero e proprio cantiere di idee e di approfondimento sul mondo del volontariato. Ci incontreremo alla mattina verso le 9.15, da lì faremo l'apertura di questa mattinata di lavori, daremo l'occasione a tutte le realtà di volontariato di provare a riflettere su quello che è il valore del volontariato proprio nel nostro territorio, nella nostra provincia e nella regione Marche. I lavori saranno molto precisi, molto chiari, apriremo con un bellissimo spettacolo del collettivo DIMAV che approfondirà il tema del volontariato e darà degli spunti alle realtà di volontariato. Da lì cominceremo i tavoli di lavoro dal quale uscirà uno spunto per i prossimi mesi dove lavorare su un manifesto che lasceremo alla nostra città verso la fine del 2023 che potrà essere poi utilizzato anche per Pesaro 2024. Al termine di questi lavori di questa giornata poi ci saranno anche i saluti istituzionali e da lì cominceremo i lavori veri e propri. Appena abbiamo saputo che Pesaro si era giudicata a questo importantissimo evento abbiamo aperto una riflessione all'interno del mondo del volontariato e il modo giusto ci sembra quello di convocare tutte le associazioni e chiedere loro cosa pensano di poter dare a questo percorso da fare insieme con il Comune, con la fondazione che gestisce l'evento e quindi faremo questo importante evento il 20 di maggio ai Cantieri Rossini e ci si può iscrivere attraverso un link che c'è sul sito www.csv.marche.it